Benvenuti a questo meraviglioso nuovo episodio dell'inglese che ci piace. Ragazzi, have fun! E come al solito partiamo subito col dire che le puntate di questo podcast non sono e non saranno mai delle lezioni di inglese, ma un modo come un altro per condividere con tutti voi l'entusiasmo e la curiosità che ha sempre caratterizzato sia me che Gina in questo percorso dell'apprendimento, io direi più dell'acquisizione della lingua inglese per me e dell'italiano per Gina, perché Gina è americana, quindi divertitevi, cogliete tutto quello che potete cogliere da questa chiacchierata e soprattutto cercate di cambiare prospettiva nei confronti della lingua, perché parlare una lingua significa divertirsi, non significa conoscere la grammatica dalla A alla Z, quindi andate avanti senza paura e con grande entusiasmo. In questa puntata, fra le altre cose, parleremo delle vacanze, vacations, e scopriremo il significato del phrasal... no, scusate, non del phrasal verb, dell'igium, raining cats and dogs. Ok, andiamo. Ciao Gina! Ciao amore, come stai? Benissimo. Tu come al solito, quando noi scambiamo i messaggi in whatsapp, mi dici sempre alla fine o all'inizio Ciao amore! Ciao amore! Ciao amore, ciao amore! You like the sound, don't you? Yeah, I do. Yeah, ti piace il suono di ciao amore, ciao amore? Because I remember once, un po' di tempo fa... La prima volta che hai detto, ciao amore, ho detto, che stai dicendo? And then you liked, and then from that moment, you were like, oh my gosh, that's amazing, amazing, ciao amore, ciao amore, ciao amore. Ok, allora, let's... allora, immergiamoci nel nostro nuovo, nella nostra nuova puntata. Let's dive, let's dive into the episode... Let's dive into the first topic. Ok, perfect. The first step. The first step. Is... Let's talk, let's talk. Let's talk, esatto, let's talk, sì. Allora, di cosa parliamo oggi? La domanda è, la domanda di oggi, quindi let's talk, cosa hai fatto ieri? What did you do yesterday? 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 Yeah, in inglese ti dico. In inglese, first in English. Prima. Yesterday was a crazy day, very chaotic, as usual, for me. I needed to record videos for my statistics class, and I need to do that during the day when the children are not home. And I forgot that two of the kids get out early, and also then I ran into some problems with the video editor. Oh my gosh, that's terrible. That's a terrible thing. When it happens, I get completely crazy. Oh, madonna mia. I'm so, yeah. Ok, provo in italiano. Brava, sì. In italiano. In italiano. Ieri ho dovuto fare tanti video per la mia classe statistica, perché insegno con un metodo che si chiama flipped classroom. Non so se usi questo inglesismo in italiano. Lo usiamo, ma lo pronunciamo in maniera completamente diversa. Tu hai detto flipped classroom, invece noi diciamo, tappati le orecchie perché è bruttissimo, flipped classroom. Ah, è così? È brutto, brutto. Sì, in italiano diciamo flipped classroom, invece è flipped classroom. E questo è quando le mie lezioni che ho registrato con il video, questi sono i compiti e facciamo un lavoro con il gruppo mentre siamo insieme dentro the classroom. Come si dice the classroom? In classe, in classe. In classe, in classe. Ma divago, come al solito. No problem. Non ho detto questo in inglese. In inglese. You didn't say that in English, yeah. In ogni caso, ho dimenticato che due dei miei bambini partiranno, escono, la scuola, che vanno a scuola per un metà di giorno. Ok, quindi hai dimenticato che due dei tuoi figli avrebbero frequentato solo metà giornata scuola. Ok, in English? In inglese. We say that they have a half day, or they had a half day. Ok, they had a half day. Loro avevano metà giornata. A half day, a half. Questo è interessante. A half day, metà giornata. Ok, and then? Anche, come si dice? I ran into problems con the video editor. I ran into problems with the video editor. E sono... I ran into problems. Sì, mi sono... Ho avuto problemi con il video editor. I ran into problems. Ho avuto problemi con il video editor. Sì, diciamo che non è proprio una... This is not a literal translation, but it's okay. The meaning is that. Non sto correndo. Non stavo correndo. Ho letto. Yeah, that's interesting, because to run is correre, and you said I ran into problems. Is that correct? Sì, sì, ho avuto dei problemi con... Ecco, ho avuto... Brava. Ho avuto... Hai tradotto tu. Più brava tu. Perché ho detto la cosa che hai detto. Madonna. Brava. Ecco, diciamo, in italiano diciamo ho avuto dei problemi con il video editor. Invece tu hai detto I ran into problems. But I also... Probably I can also say I had some problems. I had some issues related to the video editor. Ok, ok, ok. Si puoi. Got it. Quindi that was a crazy day, wasn't it? Sì. Ah, terrobo. Più di altri. E gli altri sono normalmente pieni di caos. Di caos in generale. Quindi tu vai, vivi giorni caotici. Per quanto mi riguarda, ieri ho insegnato da casa la mattina. Poi il pomeriggio invece dovevo fare alcune cose. E siccome ero stanco, non ho fatto nulla. Ok, vado in inglese. Bravissimo. Yesterday, yesterday I taught from home. Is that correct? Ok. And then in the afternoon I was supposed to do a lot of things. And since I was so tired, I decided to do nothing. Complimenti. Thank you. Let's go ahead. Let's go ahead. Ok, il secondo step. Attenzione, vai. Ok, dobbiamo parlare adesso di vacations. Di vacanze. Ok, dici qualcosa in English about this topic. Vacations. Ok, two things. My two favorite places I have vacationed is Hawaii and Italy. In Italian. I due posti preferiti, le due vacanze preferite che mi piacciono andare, che mi sono piaciute, che mi sono piaciute, cioè. Mi sono piaciuta, sono quando sono stata in Italia e quando sono stata in Hawaii. Alle, 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 ah, I don't know what is the reason. Ah, neanche io. Because we say, quando sono stata, quando sono stato o stata, alle, Hawaii. Ah, perché tagli la H. Alle, Hawaii. Hawaii, Hawaii. Hawaii diciamo noi. H, in inglese Hawaii, ma in italiano Hawaii. E sì, perché tagli la H. Ok, ok, ok. And then, then, so, you, you, how many times? Solo una volta, ognuno. Just once. Ok, for the first one and the second one. Hawaii, for my honeymoon. Come si dice? Luna di miele. Luna di miele. Honeymoon, yeah. Hawaii, in Italy, in 2018. Ok, il 2018 for? Nota che ho detto la data con due numere. Sì, 20. 20 e 18. Questo è importante, questo è importante per gli italiani. Quando voi dite, voi non dite 2018, voi dite 20, 18, 20, 18. Che poi è come dire, it's like, it's like 20, 18. E in italiano non si dice questo, si dice 2018. No, 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 mi dico, no. But it's not, I want to ask you something. Is it wrong to say 2018? No. È sbagliato dire 2018, 2000? Ok? No. No? But probably the majority of people say... 2018. 2018. Wow. E in modo più comune. Dici qualcos'altro a proposito di vacations. Che cosa ti piace fare in vacanza? In English, of course. What do you like to do when you are? Ok, first, I think vacationing is very important and you need to go away and relax, recuperate. And when I go on vacation, I prefer to be someplace warm. I do not like being cold. Ne so who I, uguale. Lo stesso per me. I like to go to the beach, always. Or we've been going to the Poconos, which is a mountain range in Pennsylvania, the state of Pennsylvania, in November when it's cold. but we rent a house in the middle of nowhere and the kids have a week off from school. So we take them away and the house has like a game room in the basement. Ok, stop because I... Sì, sì, ho capito. In italiano. Chiacchierona. In italiano. Tu innanzitutto, first of all, you said, prima di tutto tu hai detto che ti piace andare in posti caldi e non in posti freddi. E anche, è importantissimo fare i viaggi. E hai detto che ti piace moltissimo andare in spiaggia. You like so much going to the beach. And then you also said that sometimes, from time to time, when you have the opportunity, you go to Pennsylvania, in which there is... Si dice the Poconos. The Poconos. C'è un... E' il nome delle montagne in questo parto dello stato. Perché c'è una settimana dove i miei bambini non vanno a scuola. E puoi lavorare da casa, anche mio marito. E possiamo portare i bambini in questa casa e non facciamo niente. I bambini giocano nel... Come si dice? Basement. A basement. Allora, diciamo che... Tavernetta. A volte tavernetta, quando c'è una stanza, when there is a room, under the house, something like that, probably you have to... Si, si, ma... Hold on. Because I'm thinking of a word. Cattina. Cantina. 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 Si, tavernetta. Sometimes we say... Sometimes we are used to say in tavernetta. To mean basement. Yeah, tavernetta, taverna. Si, 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 tavernetta. Cantinette, cantina, si. And then... Okay, in English, in English. Could you repeat once again the thing about Pennsylvania in English and then in Italian? Because that was very, very interesting. Ripeti di nuovo il fatto della Pennsylvania in inglese e poi in italiano. That there is a place in Pennsylvania called the Poconos. It's named after the mountain range and it's a rural area. So there is... When we go there, we aren't sightseeing. We aren't being like tourists. We just stay in the house and the kids play in the basement. There's video games. There's a pool table. There's karaoke. There's foosball. Mm-hmm. How come se dice pool table and foosball? Allora, pool table forse è il tavolo da biliardo. Si, si, billiard. Yeah, billiard, we use that. Okay. Did you say pool table? Pool. P-O-O-L. Come una piscina. Tipo piscina, infatti. Stavo pensando alla piscina in realtà. Swimming pool and pool table. Quindi pool table è tavola da biliardo. Okay. Si. Foosball. Foosball. È come calcio con le persone, una piccola palla. Sì. Allora, aspetta. Forse questo in italiano, non vorrei confondermi, lo chiamiamo biliardino. Biliardino. Sì, sì. Che sarebbe quello dove c'era, insomma, una volta che si giocavano in bar si trovava. Quindi foosball. Foosball in English. That's completely new for me. I just picked up a new word. Appena imparato una nuova parola. Parola thank you. Ti ringrazio. Okay. But I have to interrupt your wonderful description because we have to go ahead. Dobbiamo andare avanti. Se no, ci perdiamo. Ci perdiamo nella puntata di oggi. All'attenzione. Step numero tre. Allora, come step numero tre abbiamo a piece of English, quindi un pezzo d'inglese. Impariamo un pezzo d'inglese, no, un idiom. Raining cats and dogs. Raining cats and dogs. Che significa? Raining cats and dogs. Gina. Significa che sta piovendo le catonelle. Letteramente, che vuoi dire? Non so perché usiamo cane e gatti, ma... Piovendo a catinelle. A catinelle. A catinelle. Ok, quindi quando piove tantissimo... C'è una bomba dell'acqua. Una bomba d'acqua. Voi come se immaginate che dal cielo piovono gatti e cani e quindi c'è questo idiom che è un modo di dire, giusto? È un modo di dire degli inglesi... Degli inglesi it's raining cats and dogs. Cioè sta proprio facendo il diluvio. Non so cosa è diluvio, ma sono d'accordo. Diluvio è, credo, correggimi se sbaglio, quando si dice it's pouring. Sì. Cioè proprio it's raining so much, so much, it's pouring. Is that correct? È corretto? Perfetto. Quindi questo? Benissimo. Quindi raining cats and dogs is... It's pouring. Something like. It's pouring. Normalmente aggiungiamo... It's raining... It's pouring outside. It's pouring... Ovviamente, ecco, it's pouring outside. Certo. Ma è usato e detto frequentemente con... It's pouring outside. Ah, ecco, quando sta piovendo moltissimo. Sì. Che meraviglia. Anche puoi dire it's pouring. Ma che... E presumo che... Che è fuori. Che è fuori, ma che è fuori ovviamente, ma è... E diciamo che it's pouring outside. Ok, perfetto. Va bene. Quarto step. Attenzione che andiamo col quarto. Vai. E qual è, Gina, il nostro quarto step di questa puntata? The tip. The tip. Brava. E qual è il consiglio che condividiamo? The tip. The tip today is to watch or follow or read content that's made for children. Ok, traduciamolo perché questo è interessantissimo. Il suggerimento che diamo oggi, in questo quarto step appunto, the tip, è seguire, leggere, guardare, vedere contenuti in inglese fatti per bambini. Quindi contenuti scritti, progettati, girati, offerti per bambini. Sì. Ed è molto bella questa cosa. Perché? Why is it important to follow? To follow? Una pessima pronuncia. I've said it all bene. To follow. 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 Oh. Oh. Perché io dico a volte... Sometimes I'm used to saying follow-v, which is not correct. Love, love. Follow. Amore. Perché ami. For love. No. Ok. To follow content for children. Perché è importante? Why is it so important? So content for children is made using concepts and words and sentences that are simple to understand and direct. Ok. I contenuti per bambini sono fatti con parole e frasi semplici da capire. Perfetto. And we all go back to a childlike state when we're learning a language. We all begin from nothing, just like babies. So it's helpful to expose yourself to that content so you can absorb the information easier. Ok, quindi è importante appunto esporsi, tu hai usato il verbo to expose, esporsi a contenuti fatti per bambini perché così possiamo apprendere in maniera più semplice. Ok. Mi viene uno in mente, non so, io ho guardato in Netflix tempo fa perché ho una figlia di amici nostri, Ginevra, guardavamo Peppa Pig con loro e Peppa Pig è bellissimo, le frasi sono lente, chiare, c'è soltanto un difetto, che per me è un difetto. La pronuncia è tipicamente UK e io non amo molto la pronuncia UK. That's something that I don't like so much because I'm into American, American, American pronunciation. You can watch, tell Ginevra to watch PJ Masks. PJ Masks on Netflix? Sì, come pijamina, PJ Masks, come la maschina. La maschera. La maschera. No, sì, la maschera. PJ Masks. Questi sono tre ragazzi che sono supereroi. 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 Superheroes. Superheroes, yeah. Superheroes in italiano is supereroi. That's difficult. Supereroi. Sì. Try. Try to see that. I'll pass on that. Supereroi. Brava, esatto. Ok, PJ Masks. Ok, I'm going to remember, I'm going to remind myself the next time I'm watching Netflix with Ginevra. Che bello, grazie. Thank you. You're welcome. Anche poi Ladybug. Ladybug. On Netflix, too. On Netflix, yeah. Ok, on Netflix. Marianetta, immagino di sì, ma questa è una donna da Pari, ma usa l'inglese più come gli americani. Ok, va bene, perfetto. Quindi tenete a mente tutti quanti questi consigli di ascoltare contenuti fatti per bambini e enjoy the English. Ok, let's go to the next and last step. Che sono, come al solito, i saluti finali. La puntata è purtroppo terminata, ci dobbiamo vedere la prossima volta e quindi vi salutiamo, vi diamo un bacio, io in italiano e ora Gina in inglese. Vai, Gina. All right, see you next time. And something else. And something else. What else are we going to say? I'll be back here soon. Ok. Sì Sì